Quando l'innovazione si sposa con la qualità del prodotto. Terra Antica inaugura a Raiano un nuovo oleificio e punta tutto sulla nuova tecnologia che permette di completare il processo di estrazione dell'olio in soli 30 minuti. Dall'antico Frantoio si è passati quindi a un impianto innovativo che rappresenta una scommessa e un fiore all'occhiello per un territorio che vede proprio nella valorizzazione dei prodotti tipici il volano per una ripresa. L'assoluta novità riguarda il percorso di chiarificazione dell'olio. Il mosto oleoso infatti entra in un secondo tamburo che riesce ad eliminare completamente le mucillaggini e i corpi in sospensione garantendo un olio finale di altissima qualità. Dunque questa è una nuova tecnologia. Avevamo un frantoio tradizionale, sicuramente bellissimo come tradizione però dava qualche problema alle caratteristiche organolettiche delle olive. La nuova tecnologia comunque ha cercato di trasformare questa metodologia di estrazione in una metodologia molto veloce. Quindi la caratteristica di questo olio dove sta? Sta nel fatto che dalla lavatura delle olive all'estrazione dell'olio passano appena 30 minuti. Quindi in 30 minuti l'utente porta a casa l'olio come si trova nel frutto. Quindi ecco, l'olio è extravergine, se le olive sono buone certamente è extravergine perché l'olio non è affatto a contatto con la sanza, con l'acqua di vegetazione quindi il prodotto è sicuramente eccellente. La produzione oraria si aggira intorno ai 10 quintali di pasta di olive. L'impianto è dotato di un'innovativa centrifuga orizzontale a due fasi. Fra tradizione e innovazione, terra antica comincia un'altra avventura.